Grazie a tutti 9 luglio 2023 Oggi siamo qui in questa meravigliosa cittadina Prontissimi per correre Automatic 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 love, I'm number one Call my love, I will call you up Cause you're my automatic Automatic love Automatic love Automatic love Automatic love Autore dei sottotitoli 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 Abbruglia con il numero 2, il nostro Abbruglia è tagliato a guarda, seguito subito da Rocco, Gancellotti con il numero 3, bravissimo Abbruglia, bravissimo Rocco. Il raggio di Gianni, l'arrivo di Gianni Rizzi con il numero 1, bravissimo Gianni, bravissimo. E parti qui fiacere. Ehi crescere. G cadre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.